Ciao a tutti Ciao a tutti popolo del tubo e bentornati nell'unico vero e originale mod news allora in altri tempi avremmo detto che questa è stata una settimana di moria le solite 4-5 mod ma visto come stanno andando i tempi ultimamente direi che è una settimana standard nel senso ormai lo standard è avere 4-5 mod decenti e basta un tempo lo standard era 4-5 mod decenti al giorno adesso a settimana nelle settimane peggiori abbiamo visto una sola mod quindi già che ne sono uscite 4-5 tra cui anche due italiane del nostro Peppe che poi adesso andremo a vedere io lo ritengo un ottimo traguardo ovviamente sarcasm 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 fatemi ringraziare tutti voi prima di cominciare perché siamo arrivati a 29.000 iscritti grazie veramente a tutti continuate ad iscrivervi ragazzi arriviamo ai 30.000 entro natale e farò un super mega special video e poi vi invito anche ad iscrivervi al mio secondo canale robinmail 81 extra a venirmi a trovare nella piattaforma viola dove sono in live tutte le mattine tutte le sere e se avete amazon prime potete abbonarvi gratuitamente al canale sostenere il canale aiutare il canale e poi la mia affiliazione giants dove se siete da pc senza alcun sovrapprezzo acquistando dei miei link potrete aiutarmi a raggiungere la partner oro ma adesso andiamo a vedere quelle 4-5 mod che secondo me hanno salvato così questa settimana la prima mod è la forage contract una mod solo per pc poi che va ad aggiungere una funzione script che non è presente nel gioco base ovvero vi aggiunge i contratti di trinciatura tra i vari contratti adesso potrete andare a fare le trinciature per i vostri vicini né più né meno e poi c'è il doppio regalo di peppe del nostro peppe 978 è uscito il fiat 480 questo bel trattolino da 48 cavalli gioiellino di casa fiat degli anni 70 in tre colorazioni om fiat e il colore fiat terracotta che poi diventerà in futuro il colore fiat agri ovviamente ho fatto un test mod sia di questo sia del prossimo quindi 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 qui 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 e sesto quindi vi invito ad andare a vedere recuperare quei test mod e dicevo l'altro è il 180 55 trattorone del 1966 cingolatone di 180 cavalli di potenza qua non è che ci sono molte configurazioni abbiamo la possibilità di mettere il peso davanti e l'attacco a tre punti dietro perché come vedete c'è la configurazione senza e la configurazione con l'attacco a tre punti andando avanti carina la rostelmash 1403 mancano le trince devo dire su farming e non ce ne sono tantissime sì ci sono quelle più famose no abbiamo la katana la fr della new holland ok però la jaguar però a parte quelle famose il top di gamma per quanto riguarda il resto un pochino mancano e quindi altre trince sono sempre ben accette qui abbiamo questa della rostelmash 442 cavalli per console e per pc ovviamente con le sue lame 440 cavalli richiesta richiesti e 6 metri per la 600 r 350 cavalli richiesti e la 3,1 metri per la 307 pf e qui abbiamo i 442 cavalli totali della bellissima r sm 14 03 e eccole eccole qua eccole qua le nostre trincette con le nostre lamente uno ovviamente è per per trinciare le andane di erba e l'altra per trinciare direttamente i vostri prodotti bellina a me piace ragazzi a me piace la rostelmash piacciono le trincette rostelmash e soprattutto come vi ho già detto mi piace avere più trincette visto che secondo me è la categoria che forse è più diciamo è meno fornita ecco diciamo così e ultima per chi ama fare le cosine a mano le cosine in piccolo abbiamo la sega che si attacca al trattore voi con questa seghetta prima andate a segare in maniera ovviamente è minuscola i pezzettini di legna e poi li raccogliete e li potete tagliare come vedete questi sono i pezzettini originali voi li tagliate qui li prendete a mano e vi fanno tanti piccoli pezzettini di legna da ardere vedete dalle mie parti si usa tantissimo questa sega qua anche perché qui ci sono quasi tutti i alberi di nocciole di olivi qua si usa fare legna usare nei camminetti le potature dei noccioli degli olivi e quindi non è roba grossa perciò per fare legna da ardere si usano tantissimo queste seghettine qua manuali quindi per chi ama fare le cosine in piccolo le cosine manuale eccetera eccetera questa seghettina qua è l'ideale mi raccomando questa funziona con la pto quindi il trattore deve rimanere acceso per usarla perché se no ovviamente se spegne questo è tutto quello che è uscito stasettimana e poi ci sono stati i due vloggettini giants abbiamo fatto due video a parte di approfondimento per queste cose quindi vi invito sempre ad andare a recuperare i video specifici che sono molto più precisi e accurati e profondi sentite che belle parole che uso comunque si è parlato della pastinaca e qua vediamo anche le immagini della pastinaca pronta abbiamo visto che produce quasi 70 mila litri per ettaro e vuole solo 10 litri perciò la resa rispetto ai semi è il mille per mille in più tipo poi 1310 euro di prezzo ci vogliono quattro mesi per farla crescere si può piantare in aprile giugno e verrà raccolta ad agosto ottobre né più né meno e poi abbiamo visto il fact sheet numero 3 abbiamo visto questo rincalzatore rotante della grim che ormai ce lo sbattono sulla faccia da quando è stato annunciato il dlc abbiamo visto la seminatrice mini air mini air mini air nova fold da 6 metri che ha solo 32 litri di capienza serbatoio ma giustamente come mi ha detto qualcuno dice se tanto consuma 10 litri per ettaro con 32 litri ce fai comunque 3 ettari quindi tutto sommato non è pochissimo ovviamente con questa seminatrice potremmo seminare tutte e tre le nuove colture della premium ovvero la carota la pastinaca e la barbabietola rossa qui c'è già una prima immagine della raccoglitrice invece con i pallet che fai pallet di carote la de wolf gcci da 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 170 cavalli richiesti un metro di lavorazione e anche questa raccoglie sia barbabietola rossa sia carote sia pastinaca quindi le nuove colture andando invece a spulciare nel web nei social dei nostri amici modder vediamo che comunque anche il new holland tk4 che sta facendo peppe sempre il nostro peppe 978 ovviamente è praticamente pronto lo vediamo già in game lo vediamo già con le texture lo vediamo addirittura anche con il dirt vedete il dirt sui cingoli quindi è messo è finito raga quindi penso che anche questo a breve non manca tanto lo avremo nella nostra farm ma la vera annunciazione annunciazione che avete visto e letto nel titolo è questa sulla sua pagina social nella giornata di ieri edo ha lanciato la notizia bomba ovvero la data di uscita della land of italy sia per pc e sia la data per console per pc e noi sapevamo che la mappa sarebbe uscita prima su pc e dopo due o tre quattro mesi su console la data di uscita su pc è il 29 di ottobre quindi domenica prossima fra sette giorni avremo la land of italy quindi abbiamo sette giorni per chiudere le nostre partite le nostre serie tutto quanto poi da domenica non si giocherà più ad altro ok quindi mi raccomando ora lui in un commento ha risposto alla fatidica domanda e su console edo ha detto su console non prima di febbraio marzo quindi a primavera probabilmente arriverà su console perché tutto questo prima che riparta il movimento ma su con non è giusto è giusto su console e noi capiti pipiti ma perché questa mappa va fuori dagli standard giants quindi è una mappa molto pesante che ha delle texture degli edifici pesanti in alta definizione in alta qualità eccetera eccetera per finire su console ha bisogno di essere tra virgolette ristretta rivista quindi loro adesso che la mappa di pc è pronta dovranno iniziare a rilavorare da capo alla versione console e quindi cercare di restringere un po le cose quindi edifici meno in hd texture meno in hd adesso non ho parlato coedo è ma conoscendo il mondo delle mod conoscendo come funziona il modding conoscendo come funziona giants dico che secondo me il tanto tempo è per questo cioè dovranno proprio rimettere mano alla mappa per cercare di fare un pacchettino che possa andare su console e poi tra questo e l'uscita ci saranno sempre i test giants avete visto che la l'italia rice quante volte va avanti e indietro avanti e indietro avanti e indietro in test e non in test e in test e non in test quindi in mezzo ci dovete mettere anche i test giants e quindi quando prima di prendere internet e descrive su quella maledetta tastiera del naffa e lagnosi lamentosi citofoni vi dovete informare dovete capire i motivi di certe scelte di certe motivazioni di certe cose mi raccomando ma amici di console non vi lascio così con una brutta notizia non vi voglio lasciare con sta brutta notizia che dovete aspettare la land of Italy fino a marzo vi voglio lasciare con una bella notizia ovvero una notizia che viene dal tda team terre d'acqua team dalla loro pagina instagram avete visto che la l'italia rice esce entra da dai test e mod quindi penso che ormai è pronta stanno cercando solamente di risolvere i problemi che mamma giants trova nei test e la rimanda indietro loro la sistemano la rimandano a giants la giants ritrova qualcosa la rimanda indietro e vai col ping e pong dei test mod ok ma cosa ci dicono gli amici del terre d'acqua team sulla loro pagina ci dicono giusto per chiarire la mappa attualmente in test e nostra intenzione portarla anche su console quindi il rilascio per quanto riguarda l'italia rice sarà in contemporanea per pc e per console sul mod hub ufficiale ad oggi non possiamo dire una data di rilascio ovviamente perché non dipende da loro dipende da mamma giants se non supererà i test giants sarà nostra premura risolvere al più presto i problemi segnalati come abbiamo già fatto quindi loro non molleranno sono determinati a portare la mappa su console e appena avremo ulteriori info saremo i primi a comunicarlo grazie tda team quindi cari amici di console comunque potrete tenere duro da qui a quando poi uscirà anche per console la land of italy con la bellissima italiana rice che io penso ormai anche questa è prossima e un po come temevo io avremo tutte e due le mappe in in contemporanea e vabbè comunque meglio abbondanza che moria ragazzi io mi fermo qua fatemi sapere nei commenti fatemi sapere la vostra scrivete qua sotto ringrazio tutti voi che avete visto il video che siete arrivati fin qui soprattutto ringrazio gli amici abbonati che non bisogna mai dimenticare sono l'anima la vita e il cuore di questo canale consenta una canale di portare avanti tutti questi contenuti giornalmente detto questo amici miei vi auguro una buona domenica magnate riposatevi e noi ci vediamo al prossimo video ciao